Ma qui stiamo parlando di 600 più... siamo 780 milioni in pancia a una regione che dice noi ne abbiamo avuti solo 246. E allora, e allora, sinceramente, lo dico a De Luca, allo sceriffo, io credo che lei a questo punto è solo chiacchiere distintivo. È solo chiacchiere distintivo. E lo dico con grande amarezza, perché lei governa una regione importante per questo Paese. Anziché darmi dello sciacallo, dovrebbe dare i numeri corretti. Questi sono i soldi che sono arrivati, caro De Luca. 780 milioni di euro, non 246 milioni di euro, come ha detto lei. Posso aggiungere... è inaccettabile. Però io dico, ma qui, questo è un presidente di regione. Sì, ma... È un presidente di regione. Ma la scuola non è un posto dove si mettono i bambini in posteggio, in parcheggio. La scuola ci permette di formare le generazioni che un domani saranno i dirigenti di questo Paese. È una cosa seria, l'abbiamo dimenticato, che tenere a casa i ragazzi è un danno enorme che facciamo non solo loro, ma a tutto il Paese. Bravo. Ma come si permette di dire una bella legge? Ma posso aggiungere? Poi può chiedere scusa, avrà chiesto scusa, ma non me ne frega niente. Ma non è una cosa vergognosa. Basta con chi usa e fa successo con delle frasi inutili. Inutili. Si dovrebbero vergognare che chi amministra un Paese dovrebbe stare zitto e andare negli ospedali a vedere cosa funziona e cosa non funziona. Non a predicare inutilmente dietro una bella scrivania comoda, dicendo cazzate, perché queste sono cazzate. Ma è un'offesa alla bambina. No, hai ragione. Non è un'offesa ai bambini.